La top 5 dell'innovazione. La rubrica del WMF che sceglie le 5 news sul mondo dell'innovazione più importanti dell'ultima settimana. 5. Elmetti intelligenti per rilevare la temperatura a distanza. L'aeroporto di Fiumicino e la metropolitana di Milano sperimentano termoscanner indossabili dotati di realtà aumentata nella visiera. I prototipi sono stati realizzati dalla KC Wearable. 4. Un'app per imparare a proteggere l'ambiente. Konohu, in collaborazione con Lega Ambiente, ha realizzato un'app gratuita di edutainment dove giocando è possibile formare la propria coscienza ambientale. 3. Un bracciale che avverte sulla distanza di sicurezza. I ricercatori del Dynamic Interaction Control Lab dell'IIT di Genova hanno ideato I Feel You, un bracciale indossabile che rileva la distanza tra le persone e la temperatura corporea. 2. Trova mascherine. Arriva l'app Trova Mascherine. Grazie a una mappa interattiva, individua in Italia la farmacia o il negozio che ha mascherine e altri dispositivi medici a disposizione. 1. Un cane robot per mantenere il distanziamento sociale. A Singapore arriva Spot, un cane robot sviluppato dalla Boston Dynamics. Il prototipo è stato messo a guardia dei parchi per far rispettare le norme sul distanziamento sociale.